Come è possibile contrastare il lavoro precario o lo sfruttamento di lavoratori autonomi o piccoli imprenditori, creando cooperative in cui condividere rischi e vantaggi del lavoro. Creando una cooperativa di lavoratori autonomi non sarai mai solo, mantenendo l'autonomia senza perdere la sicurezza. Non perdere la nostra conferenza All for One online il 3 dicembre 2020 alle 10. Ti aspettiamo!